Eccoci qua, questa sera in diretta, il Coaching Moment lo dedichiamo a Francesco Totti. Perché? Perché Francesco Totti secondo me incarna perfettamente la corrispondenza tra l'esterno, quello che mostriamo, quello che facciamo nella vita pubblicamente e quello che abbiamo dentro. Mi spiego subito, che cosa ha reso Francesco Totti così grande? Se ci pensiamo, lui aveva due sogni da bambino, l'ha detto sempre. Il primo era giocare a pallone e il secondo era farlo con la maglia della Roma e l'ha fatto sempre. Gli è stato detto mille volte da altri giocatori, giornalisti, opinionisti che forse era il caso di andare a giocare altrove, forse che in altre piazze più importanti avrebbe potuto guadagnare di più, avrebbe potuto vincere di più trofei di squadra e trofei individuali. Francesco non ha ceduto a tutte queste losiche che sono arrivate e di offerte ce ne sono stati, in particolare dal Real Madrid e dal Milan ed è rimasto a Roma, scegliendo quello che era nella sua indole, rimanendo fedele a se stesso, quindi non cercando al di fuori qualche motivazione. Per fare un esempio semplice, molto spesso magari tante persone hanno il desiderio per esempio di fare l'artista, hanno il desiderio di fare il veterinario e magari si fanno convincere da parenti, da uno strato sociale, da amici che forse quella non è la strada migliore, che la vita non è facile, la vita non è semplice, che bisogna adattarsi a quello che è socialmente giusto. Francesco, chiaramente con un grande talento, è rimasto fedele a se stesso ed è stato ripagato con un amore viscerale, non solo dei suoi tifosi, ma è stato anche corrisposto di un amore da parte dei suoi avversari, penso ai messaggi dei giocatori e allenatori della Juventus, penso al messaggio della Curva Nord della Lazio, penso a un riconoscimento che è stato forse più grande di quello che si dà ad altri campioni che seguono più motivazioni che possono essere danarose, per carità valide anche quelle, ma che poco si legano con quello che sono i valori della nostra anima. È chiaro, Francesco Totti è un unico, come lo è stato per esempio Paolo Maldini, o come lo è stato Di Natale, che ha rinunciato alla Juventus per rimanere a Udine, che è stata la sua nuova casa, quindi penso che questo ci ha insegnato Francesco Totti, oltre ad essere un grande calciatore, ad essere anche una persona che è riuscita a rimanere fedele a se stesso, a rimanere unico, a rimanere oltre che un bravo calciatore, anche un ottimo ragazzo, è un esempio che si può rimanere fedele a se stessi in un mondo anche complicato, pieno di tentazioni, come quello del calcio. Questo era il coaching moment di oggi.